Ho chiesto un minuto di raccoglimento dopo aver letto una delle frasi che è stata letta dalla sorella di Giulia e che parla del patriarcato perché è una riflessione che ciascuno di noi può e deve fare perché ci possono essere mille leggi, decreti, si possono inasprire le pene ma nulla sostituirà una cultura del rispetto della persona che è indispensabile e che senza la quale non ci può essere nessuna legge e nessuna costrizione che possa insegnare alle persone, agli uomini, ma vale per tutti quanti, il rispetto del prossimo. Il femminicidio è un delitto orribile perché è contrario all'umanità e soprattutto la cosa più terribile è che è il frutto malato di una società che non deve vedere in queste persone dei mostri, delle persone che sono isolate che quindi in qualche modo vanno contenute perché lo ripeto ancora ciò che avviene, lo stalking, i maltrattamenti delle donne è il frutto malato di una società che non riesce a considerare le due metà del cielo equidistanti e soprattutto alla pari quindi dobbiamo fare uno sforzo ciascuno di noi come istituzioni ma anche come singoli questo spero che sia il messaggio che riesca a parlare e soprattutto che ogni femminicidio che accade fosse anche uno è sempre troppo, è sempre una sconfitta dell'intera società, uomini e donne. Oggi come avete visto, essendo il Consiglio in vicinanza del 25 novembre abbiamo simbolicamente un paio di scarpette rosse dentro l'aula. La violenza sulle donne, la violenza domestica è sicuramente un fenomeno ancora troppo largo. Anche se abbiamo proposte di legge obiettivamente il problema è un problema culturale, di informazione, di preparazione le nuove generazioni femminili ma direi non solo femminili io credo che dovremmo ripartire anche da una cultura sul genere maschile il genere maschile che deve ritrovare un suo ruolo deve abituarsi a una compagna che è diversa da quella di un tempo quindi il problema è un problema obiettivamente culturale io nella mia esperienza, essendo un medico di pronto soccorso sono stata spesso a contatto di quelli che sono i maltrattamenti domestici ho fatto parte del Codice Rosa venendo dalla provincia di Grosseto quello che è stato il primo nucleo del Codice Rosa che poi si è ampliato e che è stato esportato come modello in tutto il mondo io ho conosciuto donne che per un pugno hanno avuto la mandibola rotta donne che per uno strattone hanno avuto il polso rotto e devo dire la verità che molto spesso specie se si parla di località più piccole magari più che l'abuso e per fortuna più che il femminicidio quello che succede più frequentemente è il maltrattamento e oserei dire che il problema comincia da lì quindi intanto riconosciamo i segni di chi sta accanto a noi e quando un uomo si accorge di avere una rabbia intensa verso quella che è la propria compagna e le sue abitudini deve sapere che ci sono dei centri per gli uomini maltrattanti in cui si impara, dove gli uomini possano imparare a gestire in maniera diversa la loro rabbia ma io penso che indubbiamente siamo di fronte a un tema che è assolutamente legato alla cultura di oggi ci sono diversi ambiti secondo me dove si forma diciamo quella che è la cultura del rispetto anche nei confronti delle figure femminili la famiglia sicuramente è un caposaldo su cui oggi onestamente quando sento parlare di rimettere in discussione il patriarcato ho qualche dubbio perché molto spesso quella famiglia arcaica quella famiglia che rappresentava dei valori, delle tradizioni che oggi appunto viene liquidato con la nozione di semplice patriarcato un tempo rappresentava forse un nucleo di valori un nucleo di principi che forse si sono persi nel tempo e che forse oggi credo dovremmo recuperare anziché come dire andare a trovare un capo ispiratorio non rendendoci conto invece che lo sfaldamento anche della famiglia ha contribuito anche a sfaldare certi valori e centi punti di riferimento è chiaro che in un contesto in cui tutto quanto è stato relativizzato compreso la possibilità oggi di un adolescente di dichiararsi uomo o donna a seconda della sua sensibilità del giorno viviamo in un mondo in cui purtroppo anche la violenza nei confronti di una ragazza è una violenza che si è manifestata in modo brutale di un giovane del quale potremmo indagare all'infinito le motivazioni ma non riusciremo mai a comprenderle fino in fondo se non guardandoci davvero intorno e interrogandoci tutti anche come genitori e anche nel momento in cui i nostri ragazzi i nostri bambini vanno a scuola su ciò che noi riusciamo a trasmettere loro perché questa è la nostra vera sfida una sfida culturale, una sfida familiare una sfida di recupero dei valori complessivi io credo che se facciamo tutti quanti uno sforzo al di là di quelli che possono essere gli interventi normativi forse riusciamo a bloccare questa deriva e questa relativizzazione di valori perché oggi io credo che veramente è questo l'allarme più grosso che abbiamo nei confronti di tutti i nostri adolescenti ma penso anche a tutti quei bambini che vivono una dimensione di infanzia ingenua ma che fin da piccoli devono capire che all'interno dei nuclei familiari ci sono delle regole e dei principi ben precisi quindi è una sfida culturale importantissima Seduta del Consiglio regionale in buona parte dedicata alla terza variazione di bilancio della Regione l'ultima nel 2023 risorse vengono destinate alla cultura come illustra il Presidente della Commissione Affari Istruzionali con uno stanziamento importante che traguarda gli 8 milioni di euro per il settore dello spettacolo ma non mancano anche importanti risorse che sono destinati ad eventi culturali del nostro territorio regionale come il Carnevale di Viareggio o il Festival Pucciniano si conferma anche il contributo di 1.100.000 euro per il Teatro del Maggio Fiorentino C'è poi il capitolo scuola In particolar modo 500.000 euro vanno ad integrare le risorse per il diritto allo studio e sono 600.000 euro i contributi che vengono destinati alle scuole materne non statali Ancora risorse per i comuni su asset del territorio edilizia sociale e scolastica Una variazione dice Italia Viva che vede i conti in ordine Mette in sicurezza i conti del 2023 soprattutto mette in sicurezza i conti della sanità nella quale bisogna anche migliorare rispetto ai livelli di erogazione dei servizi Mette in sicurezza alcune risorse importanti per quanto riguarda le amministrazioni locali e soprattutto inizia ad investire delle risorse importanti per quei territori che sono stati alluvionati Il centro destra attacca occasione persa dice Fratelli d'Italia per dare risposte alla sanità Ancora una volta anziché per garantire le prestazioni sanitarie essenziali i famosi LEA i soldi del governo vengono utilizzati per ripianare i debiti che la regione toscana ha fatto nel passato Ci sono altri 37 milioni di euro che vengono distratti dal Fondo Sanitario Nazionale e anziché utilizzati per le liste d'attesa per tutte quelle che sono le prestazioni sanitarie essenziali così come definite la legge quei soldi per 37 milioni vengono utilizzati per pagare i mutui che sono stati contratti nel passato C'è poi il tema dei risarcimento post alluvione Gianni non aspetti solo i fondi nazionali dice la Lega può allargare la platea dei beneficiari già da questa variazione È possibile farlo mettendo mano almeno parzialmente anche a questa terza variazione di bilancio dove ci sono poste che probabilmente non hanno certamente l'urgenza di chi ha ricevuto i danni dall'alluvione e anche attraverso quel fondo di riserva di bilancio dove la Lega come ha formalizzato nei propri atti ha individuato risorse importanti per poter intervenire subito a sostegno di chi ha ricevuto danni Sul tema interviene lo stesso Presidente che in aula annuncia un maxi emendamento da 25 milioni di euro A fronte di vari consiglieri di maggioranza, di opposizione che mi chiedevano di intervenire convertendo risorse che avevano la loro destinazione già prevista da tempo abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese ovvero a fondo perduto 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio ma che attraverso questi emendamenti al DEFRE noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in indignere quello di previsione 2024 che abbiamo portato l'indigno in giunta e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini naturalmente sono risorse che noi possiamo spendere dopo aver approvato una legge regionale cui lavoreremo in questo mese perché noi vogliamo allargare quello che sono questi ristori ai cittadini e alle imprese non solo a quelle imprese e a quei cittadini che sono stati inseriti nell'ordinanza che mi ha nominato commissario perché in quel caso io potrei dare ristori solo a chi è stato sgomberato a chi ha avuto l'abitazione o l'impresa inagibile a chi ha avuto danni strutturali seri ai propri mobili che sia imprese o che sia abitazione Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia che avevano presentato emendamenti alla variazione criticano la scelta del Presidente in concreto dicono non c'è alcun aiuto immediato per gli alluvionati Eravamo pronti e ci siamo riuniti abbiamo chiesto anche una sospensione nel ritirare i nostri emendamenti essendo felici perché noi eravamo felici del fatto che il Governatore e la Regione Toscana avesse trovato 25 milioni di euro a disposizione per famiglie, imprese e comuni alluvionati ci siamo riuniti ci siamo messi a leggere gli emendamenti abbiamo avuto anche un confronto tecnico e abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono sono un atto collegato al documento economico finanziario regionale quindi buoni intenti un atto politico Ha detto una bugia ha mentito ai toscani perché nel bilancio che oggi noi andiamo ad approvare non c'è un centesimo e sfido il Presidente Gianni a dimostrare il contrario non c'è un centesimo a disposizione delle famiglie toscane ci sono ad oggi 6-7 milioni di euro accessibili alle imprese agricole che hanno subito danni punto c'è una bella promessa che abbiamo votato perché noi siamo responsabili di mettere dei soldi a partire da gennaio 2024 ma non c'è un euro sul fatto più grave che è successo in questa regione negli ultimi 60 anni nemmeno paragonabile all'alluvione in Firenze i danni sono incalcolabili lo studio dell'IRPET ci dice 2 miliardi e 100 molto probabilmente i danni saranno 4 miliardi di euro tenete conto il paragono sull'Emilia Romagna sono 8 miliardi di euro in quel distretto alluvionato c'è il 35% delle aziende della Toscana e il 40% del fatturato per quanto riguarda i nostri distretti industriali e c'è il 65% dell'export toscano delle nostre imprese cosa pensa di fare la sinistra? di venire in consiglio regionale e di portare una mozione le mozioni lasciamo lì ai consiglieri di opposizione molte volte ce le bocciano lasciamo lì ai consiglieri circoscrizionali sugli atti concreti si misura la capacità di fare governo e sugli atti concreti soprattutto quelli emergenziali si misura la capacità di dare risposte della politica io penso che l'unica cosa che dovrebbero fare è rassegnare le proprie dimissioni e mandarci al voto domani mattina a replicare al centro-destra il capogruppo del PD l'impegno è chiaro e scritto Gianni ha presentato il documento di economia e finanza ci sono degli impegni precisi per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni residui del FESR per quanto riguarda il fondo di sviluppo rurale quindi per le imprese artigiane, industriali e per quanto riguarda le imprese agricole c'è un impegno per quanto riguarda il ristoro anche dei danni subiti dai cittadini tutto questo è un impegno fissato nel documento di economia e finanza appunto che troverà allocazione nel prossimo bilancio averlo messo ora sarebbe stato inutile perché non ci sono modalità e leggi che consentano la distribuzione e l'attribuzione un appello a non dividersi arriva dal presidente del consiglio oltre alle risorse regionali serve l'aiuto dell'Europa e poi quello del governo noi abbiamo bisogno dell'Europa è importante che l'Europa torni ad essere vicina ai cittadini e può farlo anche dando risposte e segnali concreti in poche settimane in 12 settimane dall'altro canto però facciamo un appello anche al governo che stanzi subito tutte le risorse che servono l'esperienza fatta nell'ultima legislatura è stata unica nel suo genere è stato proprio un indirizzamento di vita una bellissima palestra di democrazia e dialogo non posso che essere soddisfatta del nostro operato e soprattutto soddisfatta della nuova presidente Sofia Canovaro della quale provo un grande affetto soprattutto consapevole del lavoro che ha svolto negli ultimi anni insieme a me seduta di insediamento del Parlamento regionale degli studenti della Toscana con il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova presidente eletta Sofia Canovaro dell'Istituto Foresi di Piombino votata al secondo turno con 36 voti dopo essere andata al ballottaggio con Giulia Paolercio del Cicognini di Prato eletti anche i due vicepresidenti Anna Pelletti del liceo Carducci di Lucca e Giovanni Carpitelli del liceo Galileo di Firenze sono molto contenta della legislatura che abbiamo iniziato quest'anno ho visto dei nuovi parlamentari molto attivi sono sicura che verranno fuori tanti grandi progetti perché alla fine il ruolo del Parlamento deve essere un ruolo attivo una realtà attiva all'interno della vita scolastica di 160.000 studenti degli istituti secondari di secondo grado che ci sono in Toscana quindi speriamo di realizzare tanti progetti magari delle proposte di legge degli eventi che riescano a rappresentare appieno e a riflettere quei valori che sono cari agli studenti che noi rappresentiamo quali sono i temi più caldi più cari agli studenti in questo seminario di Montecatini quindi di formazione abbiamo parlato molto del tema della violenza che era appunto il tema principale ci siamo siamo andati sul tema della violenza verbale quindi con un professore di linguistica che ci ha spiegato cosa sono gli hate speech come si può contrastare questo tipo di violenza anche sui social e poi abbiamo parlato molto anche della violenza di genere soprattutto dopo i casi che ci sono stati ultimamente dei femminicidi in Italia che sono parecchio aumentati e sono un grave problema che affligge questo paese e il mondo intero direi a salutare i nuovi membri del Parlamento regionale il presidente del Consiglio Antonio Mazzeo in bocca al lupo a Sofia un in bocca al lupo chiedendole di fare in modo che quel luogo sia sempre un luogo aperto un luogo di confronto un luogo di ascolto un luogo in cui vengano fuori le diversità durante il mio intervento in aula ho chiesto alle ragazze e ragazzi di non essere mai indifferenti di non voltarsi mai dall'altra parte di ascoltare sempre le posizioni che sembrano più lontane da noi perché in ogni intervento ci si può trovare qualcosa di importante che può migliorarci e può migliorare la Toscana del futuro il Parlamento degli studenti per me è un luogo importante all'interno della democrazia della nostra regione è un luogo con cui si può leggere il mondo dagli occhi di una generazione nuova a loro il compito di scrivere la Toscana del domani ma anche di darci consigli suggerimenti su quello che sta accadendo oggi in questi anni ho avuto la possibilità di incontrare tante studentesse e tanti studenti consentitemi di ringraziare anche la past president Maria Vittoria per il lavoro importante che ha portato avanti in questi anni davvero in quel luogo c'è la bellezza della nostra regione allora un grande in bocca al lupo un buon inizio un buon cammino un buon inizio un buon inizio Grazie a tutti.